Festeggiamo esattamente 120 anni e vogliamo allargare la festa quanto più possibile, quindi era il minimo l'apertura delle porte con 5 euro, insomma il biglietto ridotto, questa vuole essere una forma di vicinanza al nostro pubblico perché vogliamo festeggiare tutti assieme. 100 anni d'azienda, 20 nello sport, insomma l'insegna di un fondamento che la Tonno Calipo ha portato sempre avanti. Esatto, uno dei valori dell'azienda Calipo Tonno è proprio quello di restituire alla comunità in cui lavora, quindi da dove provengono i propri collaboratori quanto più possibile, quindi l'investimento nella squadra di pallavolo è proprio in questa direzione, anziché andare a fare campagne pubblicitarie, insomma fine a se stesso, o meglio, fine alla commercializzazione del prodotto, noi abbiniamo la parte sociale con la comunicazione proprio nello sport, in questa squadra che seguiamo e in cui crediamo da 20 anni. Tante iniziative, intanto si cambia maglia con questa scritta 100 anni, ma iniziative che si protrarranno per tutto il 2013. Esatto, oggi siamo qui per presentare l'apertura degli eventi legati al centenario in questo 2013, la seconda sarà il cambio maglia vero e proprio nella partita di domenica prossima e poi una serie di iniziative che man mano andremo a promuovere.